Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gianniotto. Siamo su A Plague Tale Innocence e continuiamo la nostra avventura. Nello scorso episodio siamo finalmente arrivati allo scelto d'Ambrage. Ci ha lasciato un po' spaventati perché essendo una costruzione molto antica aveva comunque delle difese contro questa piaga di ratti che si è diffusa. Quindi è un po' inquietante perché non sappiamo se queste cose sono state aggiunte dopo, non lo so, se magari era una cosa che avevano previsto, oppure se è una cosa che era già successa anni indietro. Quindi non lo so, non saprei nemmeno che cosa pensare, ecco. Quindi magari ce lo scopriamo andando avanti nella storia. Allora, come vi ho detto siamo nello chateau d'Ambrage e l'hanno chiamata casa perché probabilmente si vogliono stabilire qui, visto che il dottore comunque ci aveva suggerito di venire qua. In effetti le difese contro i ratti e essendo un posto isolato è molto favorevole per il discorso che comunque l'inquisizione, mi sembra, sì, ci sta comunque seguendo. Quindi magari questo potrebbe essere un buon nascondiglio. Bene, io come al solito faccio il mio giretto di materiali. Adesso guardiamo un po' se possiamo migliorare qualcosa. Allora, la sacca di munizioni. Capacità massima 14 munizioni di ciascun tipo. Sperimentando nuove tecniche per la concia del cuoio, Amicia migliora l'elasticità della sua borsa e ne aumenta la capacità. Beh, direi proprio che dai è buono. Anche perché il resto non lo possiamo fare, quindi è sempre meglio fare i miglioramenti che possiamo sul momento. Bene, allora a me qua mi segnava qualcosa. Vediamo un po'. Ah, ok, probabilmente per ripulire tutto il posto sta dicendo. In effetti non è che sia proprio messo bene. E qua non c'è niente. Qui siamo messi un po' così, però ci mancano i materiali. Poi insomma speriamo che diciamo per un pochino magari siamo tranquilli, ecco. Ok, quindi seguiamo il fratello, però prima cosa c'è qui? Sarebbe un bel casino. Ah, qui abbiamo il nostro Lucas al lavoro. Ok, quindi dobbiamo prendere una fiaschetta. Ah, eccola qua. Chissà cosa sta combinando. Io spero solo che non ci faccia saltare in aria, ecco. Sarebbe un po' un casino. Allora, il bambino vorrebbe mangiarsi qualsiasi cosa praticamente. Quodri? Sì? Anche la terra dell'angelo. Pinnacle dell'alchemia. L'olico? E... UNA. E' un grande lavoro. UNA. 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 Sì, però aspetta, perché io sono curiosa, eh. Ah no, qua abbiamo tutto, quindi niente. Qua invece qualcosa... Ok, possiamo andare. Bene, dai, non ci ha fatto saltare in aria già qualcosa. Quindi la ragazza che ci ha aiutato non c'è. Ecco, posto. Ah, Eccola. Hmm, di cosa vorrà parlare? Certo è parlare così, in effetti, di inquisizione. Eh. Amicia, guarda! Listen, with Hugo, it doesn't look easy, but believe me, it's worth it. He will save you. They always end up saving us. Even if, you know, brothers, sometimes you just want to kill them. I believe you. Anyway, don't leave without saying goodbye. As if that was my style. Amicia, please come. Yes, Hugo. What did you find? Ok, quindi la tizia probabilmente andrà a cercare il fratello. Che gli vada bene, non lo so. Non ho ben capito, sinceramente. Esamina il simbolo nella sala principale. Ho trovato qualcosa. Ah, ok. I doni. però, eh... Non saprei come usarli. Cioè, come faccio io a darglielo? Non lo so. Magari fai in automatico. in automatico. Ok, quindi qui c'è un disegno che sembra quasi la parte fuori, dove c'erano quei fuochi nello scorso episodio che li giravamo per tirare di sotto i ratti. che... 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 si... che... No, no. Yes. The macula is spreading through his blood. The books say there are several thresholds in the process, and at each threshold, the carrier may be lost. How much time do we have? Very little. Hugo is nearing the first threshold. My master and your mother were trying to slow the process down. But how? What were they doing? They were working on a very complex elixir that would allow him time to prepare. And do you know how to do it? I don't have their knowledge, but their work was inspired by a forbidden book, the Sanguinis Itinera. So perhaps with the book you could... I'm afraid not. The Sanguinis Itinera is dangerous. It is sealed together with other works in the university basement. Just getting there would be near impossible. Suicidal even. Normally, yes. But if we take advantage of the current chaos, we might have a chance. I know the place. It's in town not far from where they keep my brother. If you're ready to take that risk, I can help you get in. Thank you. Ok, quindi il nuovo piano sarebbe di andare in questo posto per rubare questo libro. Posto che, a quanto pare, è anche molto pericoloso. Abbiamo trovato un altro fiore. Qui cosa ci dice alle collane? Ok, è un po' una sorta allora di memoriale, via. Per i genitori, bene. Andiamo a vedere un po'. Allora, Lucas aveva detto ci voleva preparare delle scorte. Andiamo un po'. Scusa, ne avevi detto che mi volevi lasciare della roba? Non trovo niente però, boh. Forse me l'ha lasciato di sopra. Eh, qui di sotto per esempio cosa c'è? Ancora sotto? Vorrei infilarmi nel guai. Eh, guai no però. La tomba. Non è che sia proprio... Ah, non mi fa fare nemmeno niente, quindi... Nulla, torniamo su. Ok, quindi non ci rimane che partire. Quindi ci saranno delle rose lungo il passaggio. Ok, quindi dovremmo tenere gli occhi aperti per vedere queste rose che ci indicheranno la via. Ok, quindi siamo arrivati dove dobbiamo prendere il libro. Allora, io direi di lasciarlo per il prossimo episodio, perché noi lo dividiamo tutto per bene a capitoli questo gioco. Ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando iscrivetevi al canale, seguite le pagine social, vi lascio tutti i link in descrizione, così potete trovarli facilmente. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao! 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 Grazie a tutti